Sì, è un esore positivo perché abbiamo cercato di fare la partita noi, abbiamo creato tanto nel secondo tempo e penso che abbiamo dimostrato che vogliamo vincere la partita. Sì, il pareggio è arrivato, come ti dico, magari meritavamo di fare ancora di più perché abbiamo creato tanto, abbiamo messo l'atteggiamento giusto e penso che comunque si è dimostrato che cosa volevamo. La scelta mia è una gesta, il pareggio è un'ottima piazza, è sempre una piazza importante per la Serie B e ho lanciato tanti giocatori in questi ultimi anni, comunque ringrazio il Varese per la fiducia e la società. Il gruppo è un gruppo bellissimo, è stato facile inserirmi, quindi ci sto provando ancora di adattarmi a tutto quello che vuole il mister, quello in gruppo, quindi sto mettendo tutto. No, per me è lo stesso, quello che dice il mister è che dobbiamo correre, lottare, la voglia di correre si deve avere prima della parte tecnica, quindi essere lo stesso a destra, a sinistra o ad attaccante. No, beh, già la squadra è forte, io mi devo inserire la squadra e sempre devo, dico, ce ne sono tanti attaccanti esterni, quindi penso che quello alza il livello della squadra e ci fa dare sempre il 100% per quello che deve giocare. Quindi penso che la squadra sia forte, io penso che abbiamo fatto bene nel secondo tempo a creare tanto, quindi dobbiamo seguire per questa strada. Ebbene, è stato da dieci con me perché mi ha detto subito che qua si corre e si lotta e io sono disposto ad adattarmi a lui, alla squadra, quello che vuole lui. Grazie. Grazie. Grazie.